Sono Monica, sono la mamma di un neonato prematuro nato a 29 settimane, ormai un po' di anni fa. NIDCAP per me è soprattutto osservazione, rispetto e interazione. L'osservazione che ci dà la chiave di lettura per capire il linguaggio che usano, il linguaggio del corpo dei nostri bambini. Rispetto, perché c'è il rispetto del bambino, rispetto dei tempi del bambino, rispetto del ruolo della famiglia. Interazione, perché si diventa genitori del proprio bambino crescendo insieme a lui e capendo di cosa ha bisogno e cosa dobbiamo fare. E quando è il tempo giusto per farlo. Quindi per me questo è NIDCAP.